Musica Mister Trevico, a Carnevale ogni scherzo vale il Mondicelli ne aveva preparato uno bello grande, alto lentino un po' di sfortuna, anche qualche errore arbitrare, però sicuramente è una squadra quella di oggi che esce a testa alta Bravo, grazie di questi complimenti perché i ragazzi ne hanno bisogno oggi sinceramente meritavano anche i punti, purtroppo capita così, sono giovani, quando la classifica è così è umano da parte forse del direttore di gara fare questi errori qua, dispiace perché forse dal 2 a 1 loro poteva essere un 2 a 1 nostro invece, ahimè è successo così, però ci teniamo stretti questa crescita individuale ci sono ragazzi del 2001 che stanno crescendo a vista d'occhio, sono seguiti veramente da società più grandi e per il Mondicelli è veramente una cosa bella, un riscatto, i ragazzi se lo meritano, mi auguro per loro grandi cose in futuro Ecco, c'è anche un battito rammarico perché subito dopo il 2 a 1 avete avuto due grandissime occasioni da gol una con Gigi Bellieri e l'altra se non erro di Bruni e lì è proprio la sfortuna che oggi ha dovuto dare i tre punti al Tolentino in S1 al Mondicelli Effettivamente lì Gibo ha fatto un'azione importante perché ha portato palla a 30 metri e quindi è arrivato giustamente un po' stanco Poi c'è stata quella di Capriotti e Matteo, forse una doppia parata, sforbiciata, insomma purtroppo alla fine la palla non è voluta entrare però insomma, ok, il Tolentino deve fare il suo campionato, diamo i meriti comunque anche il Tolentino che lo attorra fino alla fine ha giocatori importanti, faccio una menzione a Minnozzi che ho avuto io negli allievi nazionali ad Ascoli un attaccante veramente di livello, oggi l'ho visto bene, gli auguro anche a lui un grande futuro insomma Ecco, cosa comporta questa partita nel finale di stagione del Mondicelli? Ma comporta che stiamo credendo ancora di più nel nostro lavoro che non è solo la domenica ognuno di loro ha delle schede individuali, c'è chi la sta lavorando di forza, chi di flessibilità musicale addirittura inizieranno con l'istruttrice a fare un lavoro particolare perché è importante anche il tronco per poter muoversi insieme e senza pallone secondo me qualche giocatore sta prendendo veramente la strada, vedo che ci iniziano a credere quindi i risultati più o meno contano ma è relativo un altro anno si ritroveranno un gruppo di giocatori per affrontare un campionato di promozione, è veramente buono secondo me Grazie Grazie Grazie